Violentata a 13 anni dal cognato che, approfittando del fatto che la madre era all'ospedale per partorire, non si è fatto scrupoli di usare violenza sulla ragazzina. Madre e figlia sono partite poi da Quinto di Treviso, dove vivevano per l'Inghilterra, come avevano già programmato da tempo, ed è stato proprio in Gran Bretagna che la piccola, non potendo più nascondere una gravidanza, ha dovuto confessare la violenza subita. Inizialmente ha mentito, dicendo di essere stata sequestrata per strada. Determinanti però si sono rivelate le indagini della polizia di Scotland Yard che, una volta nato il bambino, ha disposto la prova del DNA risalendo alla verità. L'uomo quindi, operaio 27enne di origine ganese, nel giugno scorso è stato arrestato e portato in carcere. La ragazzina aveva inizialmente sottaciuto il fatto, ma successivamente, una volta trasferitasi in Inghilterra, grazie all'intervento della polizia inglese, ha permesso di far luce con una denuncia circostanziata. I riscontri tecnici relativi alle indagini di laboratorio sul DNA del bimbo nato a seguito della violenza hanno permesso di raffrontare il DNA dell'autore del fatto e questo ci ha consentito alla magistratura italiana di ordinare l'arresto dell'uomo, arresto che è stato eseguito dagli investigatori della squadra mobile e della questura di Treviso nello scorso giugno. In carcere però il violentatore non ci è rimasto a lungo. Visto che la piccola, nata e cresciuta in Italia, è rimasta a vivere in Inghilterra, il giudice non ha ravvisato ulteriori elementi di pericolosità ed ha disposto per lui la sola misura della sorveglianza speciale.